Mi chiamo Alessio Biagirotti, sono andato a Perugia nel 1974 dove vivo. Il mio lavoro è la comunicazione visiva, il campo delle arti visive, in particolar modo nell'epoca contemporanea, quindi con mezzi, strategie e temi contemporanei, molto attuali. Questa mostra viene nominata reality show, in quanto metto a confronto il vero reality show, cioè la vita quotidiana, in particolar modo quella di due animali che lottano per la sopravvivenza, con il reality show più finto, costruito, sceneggiato e creato ad hoc, che tutti i giorni sta sopra come una pietra pesantissima e molte volte non riusciamo a sclorarci da questa cosa. In tutto ciò il mio credo, diciamo, che a chiare lettere è anche esposto nella poetica di questa mostra, è che in epoca come questa dove tutti pensano a mostrarsi, io preferisco mostrare e comunicare. La galleria reality show sicuramente si caratterizza sia per l'arte storicizzata, per l'arte contemporanea, come si può vedere questa sera, e anche la fotografia. Il prossimo appuntamento qui vedrà sicuramente come protagonista un fotografo, ci inaugureremo a settembre, a fine settembre, e sarà tutta una mostra fotografica di un giovane contemporaneo, che sarà sicuramente molto interessante e molto bello da vedere. Per cui, niente, galleria gratis per arte moderna, storicizzata, arte contemporanea e fotografia sicuramente.